Ciao a tutti e bentornati su Mangiapagine, io sono Veronica e oggi sono qui per portarvi i libri che ho letto durante il mese di maggio. Allora, maggio è stato un bel mese denso di letture, quindi devo cercare di farvi un po' in fretta e parlarvi un po' di tutto. Allora, io ho qua il mio feed bullet journal in cui segno un po' gli appuntini dei libri di cui voglio parlarvi e ho qua anche il mio tablet in cui ho le immagini dei libri che ho letto almeno indicativamente per farvele vedere perché io leggo molto su ebook e non ce l'ho qua in questo momento e non ho la copia insomma cartacea del libro. Allora, partiamo dalla prima foto di libro che sto vedendo ed è Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Allora, io di Virginia Woolf purtroppo non ho letto mai niente, non ho letto neanche Gita al Faro. Lo so, sono una pessima persona e ho pensato di incominciare a leggere da appunto Una stanza tutta per sé. Una stanza tutta per sé l'ho finito oggi, quindi è relativamente fresco nella mia memoria e sostanzialmente la nostra cara Virginia cerca di dare una risposta a neanche un quesito ma al mettere vicino due termini che nella sua epoca sembrava un po' impossibile, un po' quasi un ossimoro ovvero il romanzo e le donne, il romanzo e la donna, cioè nel romanzo tendenzialmente si parlava Ops, a parte spoiler dell'altra lettura, però nel romanzo di solito si utilizza appunto il romanzo per parlare delle donne, cioè all'interno del romanzo c'erano tutte le nostre eroine e non si parlava tanto di romanzo in quanto scritto da una donna tra l'altro anche nella sua epoca le donne scrittrici scrivevano anche sotto pseudonimo e lei cerca di dare una risposta al fatto che romanzo e donne possono essere uniti come termini si può parlare di donne all'interno di un romanzo e possono essere anche le stesse donne a scrivere questi romanzi, saggi, ma non necessariamente le classiche storie che ci si aspetterebbe di vedere scritte da una donna, quindi una storiella d'amore ma appunto anche dei saggi filosofici o altro e secondo lei quello che aiuterà una donna a poter scrivere un romanzo sono sicuramente una stanza tutta per sé c'è uno studio in cui mettersi lì tranquilla a scrivere e dei soldi come primo approccio alla Woolf mi è piaciuto nonostante questo sia un saggio e non un vero e proprio romanzo mi è piaciuto perché comunque ha dato molto peso positivamente parlando a delle autrici che hanno fatto la sua epoca e hanno fatto insomma, che ricordiamo moltissimo come autrici di romanzi molto famosi pensiamo alla Elliot, pensiamo alle Bronti, pensiamo a Jane Austen quindi sicuramente secondo me non è stato un brutto modo per incominciare ad approcciarmi a questa autrice poi adesso andiamo a vedere che altro mi propone come foto il mio scusate ma diciamo che i miei strumenti sono un po' anzianotti come quella che sta parlando allora, ok, il prossimo che mi dà è The Sun is Also a Star di Nicola Yoon allora, The Sun is Also a Star è un libro sempre di Nicola Yoon è il secondo che leggo di suo, dopo vi parlerò anche dell'altro libro che ho letto allora, è un libro che non mi ha particolarmente colpito per quanto comunque i temi secondo me siano abbastanza importanti e questo fa sì che si possa parlare di un libro che va bene per molte età molte fasce di età di lettori proprio appunto grazie alle tematiche perché sostanzialmente si parla di immigrazione si parla di ragazzi si parla del fatto che alcune famiglie che sono state costrette a emigrare in altri posti non si ritrovino nella nuova nazione ospitante si parla anche del futuro dei giovani si parla del fatto che spesso i voleri dei genitori non sono in linea con i sogni dei ragazzi e quindi c'è un po' questa diatriba interiore all'interno di molti giovani in questo senso allora, in Everything Everything spero che, insomma, l'abbiate visto com'è la copertina allora, ci sono due ragazzi sono Daniel e Natasha Daniel è figlio di asiatici, mi sembra, di coreani ma non vorrei dire una stupidata e Natasha è figlia di giamaicani che entrambi si sono ritrovati in America per tentare la fortuna il problema è che Natasha sta per essere riportata al suo paese con la sua famiglia perché sono, insomma, non sono in regola con i documenti o con tutto Daniel, invece, è un ragazzo che non vorrebbe seguire i sogni che hanno i suoi genitori per lui ovvero loro lo vogliono vedere come il medico un medico affermato quindi in grado di guadagnare molto e per togliersi tutti gli sfizi di quel bisogno ma lui non vuole i due si incontrano e si innamorano è una storia raccontata ovviamente non è solo una storia d'amore ma appunto, viste le tematiche, c'è qualcosa di più è una storia raccontata però da diversi punti di vista che a me dopo un po' hanno un po' spiazzato perché avevano senso quando entrambi non si conoscevano quindi bisognava raccontare un po' le vicende della loro vita ma una volta che si sono incontrati secondo me questa storia dei punti di vista diventa un po' inutile sicuramente un romanzo infatti l'ho messo anche qui che va bene per i giovani o comunque per un'ampia fascia di pubblico di lettori però non lo so c'è stato qualcosa che non mi ha sconfifferato molto mentre l'altro libro che ho letto sempre di Nicola Yoon è Everything Everything ho fatto vedere quello sbagliato prima non mi ricordo scusatemi comunque Everything Everything è sempre il libro dello stesso autore qui abbiamo una protagonista che si chiama Madeleine che è una ragazza che si trova costretta a vivere in casa a non poter uscire a non poter fare la vita che le persone della sua età gli adolescenti devono fare quindi andare a scuola uscire con gli amici divertirsi leggere studiare lei non può farlo perché soffre di una rara malattia che non le permette di incontrare il mondo non le permette di incontrare le persone perché se qualora una persona dovesse andare a far visita a Madeleine dovrebbe diciamo entrare in casa sua in modo asettico quindi dovrebbero ripulirla di qualsiasi batterio eccetera perché lei ha un sistema immunitario molto compromesso e quindi potrebbe ammalarsi con un non nulla lei stoichera il suo vicino di casa che ora non mi sovviene più come si chiama Holly no vedete è per quello che io mi segno le cose perché magari questo l'ho letto il primo di maggio e non me ne ricordo tutti lei stoichera il suo vicino di casa e con il vicino di casa un ragazzino un ragazzo insomma della sua età inizia un rapporto prima virtuale e poi vis-à-vis e allora è stato un libro che mi è piaciuto allora aspetta lo stile mi è piaciuto molto perché Nicola Yoon il suo stile mi piace molto è molto leggibile io li ho letti entrambi in inglese quindi insomma li ho trovati leggibili e godibili anche in lingua originale le storie le trovo un pochettino semplici questa è molto più più semplice secondo me The Sun is also a Star questa è un po' non mi è piaciuto tanto questo stalking nei riguardi del vicino cioè anche qui si crea una sorta se vogliamo di storia d'amore però forse quella che c'è in The Sun is also a Star è una storia d'amore un pochettino più comprensibile questa non l'ho trovata così comprensibile carino il plot twist finale perché c'è una sorta di inghippo una cosa un po' strana e mi è piaciuta era comprensibile e capibilissima però mi è piaciuta il prossimo libro di cui voglio parlarvi questo brevemente ci sarebbe tantissimo da dire ma non posso parlarvi tipo 15 ore per un libro comunque vi parlo di Vox di Christina Dalcher Vox l'ho letto in italiano della storia di una donna che si chiama Jeanne 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 non so come si pronuncia comunque la chiameremo Jeanne anche se non è francese comunque ha dei dei parenti italiani insomma quindi possiamo chiamarla Jeanne perché Jeanne viene chiamata anche all'interno del libro Jeanne è una scienziata che si occupa di trovare una una cura per l'afasia se non erro se ha l'incapacità di parlare dopo traumi traumi che possono avvenire insomma in una persona per esempio penso a un ictus insomma questi traumi come si dice medici e lei ha sempre lavorato per questo progetto per trovare una cura contro l'afasia aveva un suo un suo team un suo staff e ha lavorato fino a quando al governo degli Stati Uniti non sale un presidente e comunque una cerchia di persone legate molto alla religione molto chiuse mentalmente e persone che hanno molta paura delle donne perché fanno mettere alle donne un braccialetto che conterà le parole pronunciate appunto da queste donne cioè la donna le donne in generale possono avere un massimo giornaliero di 100 parole altrimenti se sforano queste 100 parole parte una scossa che insomma farà del male a queste persone Gianna verrà però poi richiamata dal governo per continuare il suo progetto contro l'afasia per trovare una cura per l'afasia e da qui in poi in realtà la cosa è anche un po' più grande rispetto a questa cosa perché Gianna doveva trovare la cura per l'afasia del fratello del presidente degli Stati Uniti allora sembra un po' intricata ma in realtà non è così intricata in realtà Gianna è la nostra heroina anche se in realtà devo dire devo ammettere che alla fine non è che mi sia particolarmente simpatica per quanto mi sia piaciuto il fatto che per una volta abbiamo come eroina di un libro una persona adulta e non un ragazzino quindi mi è piaciuto particolarmente e mi è piaciuto molto come viene contestualizzato questo nuovo mondo in cui c'è questa forma di governo molto bigotta diciamo è stato contestualizzato molto bene mentre al contrario la caratterizzazione del personaggio è fatta secondo me un pochettino male nel senso si poteva parlare molto di più dei personaggi ad esempio uscirà un personaggio all'interno del suo staff Lorenzo di cui si sa poco e niente viene buttato lì così e a me le cose buttate lì un po' così non mi piacciono tanto mi piace che si perda magari quel capitolo in più per contestualizzare il medio il finale è troppo veloce cioè secondo me non succede niente per una bella meta abbondante del libro e poi tutto avviene negli ultimi capitoli e secondo me si poteva ampliare un pochettino di più questo finale farlo molto meno frettoloso sicuramente però è un libro interessante ho letto poi ne ho letti un po' questa volta ho letto l'annusatrice di libri di Daisy i card io ce l'avevo in cartaceo però adesso l'ho dato a mio padre da leggere quindi insomma accontentatevi anche qua del supporto tecnico e tecnologico allora nell'annusatrice di libri abbiamo una ragazzina che si chiama Adelina che vive con vive dalla zia Amalia se non erro sì a Torino dove frequenta una scuola religiosa una scuola per signorine e lei si accorge di non riuscire a leggere come le persone normali cioè con gli occhi lei riesce a leggere con l'olfatto cioè riesce a captare le storie dei libri tramite l'olfatto ma non di tutti i libri dei libri che sono passati da un proprietario all'altro cioè comunque dei libri vissuti non dei libri freschi di stampa e da qui in poi si inserisce un po' un'idea di una come si può dire il fatto che lei fosse in questa scuola religiosa rimanda un po' alla storia di una santa che riusciva a captare a capire i libri anche di altre lingue solo semplicemente annusandole quindi si pensa che questa delina sia la nuova santa e molti invece vogliono utilizzare questa sua questa sua dote particolare per degli scopi un pochettino roschi quindi è un libro che è un po' un giallo è divertente è ironico e nello stesso tempo si fa riferimento a un'epoca passata che è stata molto interessante da leggere da vedere perché ci sono continui flashback continui rimandi alla vita della zia che è una persona insomma è una persona vedova ricca ma tirchia quindi deve mettere insieme questi lati del suo carattere come prima come si dice come primo primo esperimento con questa autrice che non conoscevo devo essere devo dire che sono veramente molto soddisfatta perché mi è piaciuto veramente tantissimo poi ho letto velocissimamente The Princess Saves Ourself in This One di Amanda Lovelace mi è piaciuta mi è piaciuta la parte grafica la parte di disegno insomma è una raccolta di poesie è una raccolta di poesie che sento abbastanza mia perché fortunatamente si parla di tematiche quali il corpo che non deve essere visto come un ostacolo qualcosa da coprire qualcosa di cui avere schifo ma deve essere qualcosa da dimostrare il nostro corpo è diverso ognuno di noi ha un corpo diverso ed è giusto che sia così mi è piaciuto forse un po' di più di quelli della Rupi Kaur come libri perché fortunatamente per esempio nel libro della Rupi Kaur se qualcuno l'ha letto si fa riferimento allo stupro qua si fa riferimento a cose che tutte le donne soprattutto a tutte le donne capita quindi il cambiamento del corpo il sentirsi inadeguati il rapporto con la madre il rapporto all'interno di una famiglia cioè qua ci sono delle tematiche sicuramente che si sentono un pochettino più proprie rispetto a uno stupro fortunatamente quindi mi è piaciuto molto molto di più il titolo rimanda al fatto che noi donne abbiamo la forza dentro di noi per emergere non abbiamo bisogno di principi azzurri per quello che the princess save yourself in this one e mi è piaciuto parecchio poi ho letto due libri di un'autrice che ho scoperto così sui social tale Vanessa Sobrero due libri sono due libri d'amore che però mi sono piaciuti particolarmente non so questo è stato un mese un po' romantico sto parlando di ogni stella nascosta e in ogni stella nascosta la nostra protagonista tra le copertine sono anche carine se devo dire la verità la nostra protagonista Cecilia si innamora di un famoso dj del milanese che crea queste serate a tema rockabilly quindi musica anni 50 anni 60 proprio serate in cui le persone si vestono come all'epoca quindi è molto divertente e da qui poi sappiamo che le storie d'amore più o meno il filo conduttore è sempre quello c'è l'innamoramento fra due persone poi c'è un punto di spannung in cui oddio sembra che ci si lasci e poi c'è il ricongiungimento finale e questo è stato carino è carino perché la ragazza è giovane lui ha 13 14 anni in più di lei quindi lei viene vista come la classica ragazzina immatura ma Cecilia alla fine del libro darà prova di essere diversa sempre della Sobrero ho letto tra mille baci di addio e in questo libro c'è un po' la mia me di quando ero giovane quando non so se anche voi avete avuto parlo delle ragazze ma anche di ragazzi non so se avete avuto mai la sindrome della madre Teresa di Calcutta della croce rossina cioè la sindrome di cui voi vi innamoravate sempre di quelle persone un po' messe peggio cioè instabili mentalmente instabili fisicamente cioè perché vi sentivate realizzati a portare pace nel mondo di queste persone ecco io ho avuto questa mia questa mia idea e ho sempre perso del tempo dietro alle persone sbagliate così come la protagonista di tra mille baci da dio la protagonista in questo caso tra l'altro mi sono ritrovata abbastanza perché la protagonista si chiama Veronica quindi quale è il miglior coronamento per questa lettura che perde tempo dietro a uno stronzo patentato ma fortunatamente lo capirà quindi vi dico solo questo poi forse siamo arrivati siamo giunti alla fine sì perché l'ultimo libro di cui voglio parlarvi e di cui ho il cartaceo fortunatamente è vita su un pianeta nervoso di Matt Haig allora vita su un pianeta nervoso di Matt Haig mi ispirava da tantissimo tempo e mio padre me l'ha portato e io l'ho letto e non mi è piaciuto particolarmente è un saggio sull'ansia sul tema dell'ansia ora è un saggio fruibilissimo da tutti quindi è un saggio molto da un lato godibile non è qualcosa di così pesante però secondo me parla un po' di aria fritta cioè Matt Haig si basa soprattutto sul fatto che i nuovi media quindi social media la vita frenetica che facciamo la vita fatta circondata da internet da twitter da instagram e da tutte queste appunto bombardati da queste news continue ci rendono uomini e donne ansiosi ora secondo me questa è tanto aria fritta il fatto che sia necessario avere un ritmo di vita regolare non fumare fare attività fisica non bere andare a letto e svegliarsi in orari decenti mangiare in modo decente sono tutte cose che tutti noi sappiamo ma che non facciamo mai quindi non ho trovato quella grande novità ora è scritto sicuramente bene perché lo stile di Haig ce lo fa ci fa amare quasi tutto se devo essere onesta però mi aspettavo non lo so forse l'andare un po' più in profondità nelle cose non lo so mi aspettavo qualcosa di diverso quindi mi è piaciuto ma non ho avvertito tutto questo hype dietro questo libro ora dopo 20 minuti di chiacchiere in cui mi sono dilungata direi anche abbastanza vi ringrazio come al solito di essere stati qui avere ascoltato i miei sproloqui sulle mie letture dei mensili se qualcuno di voi ha letto qualcosa e vuole farmi sapere cosa ne pensa sarà il benvenuto può farlo sotto nei commenti e vi ringrazio ancora per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao